Ma il confronto fu così azzeccato in un momento in cui si è parlato tanto di privacy e dati sensibili. Dopo l'attacco hacker ha sferrato i danni del sistema informatico della ASLO 1. L'ordine dei medici ha organizzato proprio oggi all'Aquila un convegno sulla privacy e il segreto professionale in ambito sanitario con varie partnership. Ogni cittadino che entra in uno studio medico, in un pronto soccorso ospedale, ha il diritto alla segretezza dei dati personali o sensibili. Ci sono regole ben precise e anche sanzioni disciplinari e penali che vanno dal licenziamento immediato a risarcimento danni con pene pecuniarie elevate. Anche per le ASLO, cliniche private e ambulatori possono configurarsi responsabilità penali se non garantiscono adeguatamente il diritto alla privacy dei pazienti. L'attacco hacker alla ASLO ha dimostrato come i sistemi antivirus di alto livello siano complessi e costosi. Il convegno è stato molto interessante, anche alla luce delle disposizioni del garante della privacy di recente. Abbiamo, sì, questa cosa recentissima dell'altro ieri e il garante della privacy ha chiesto alla ASLO ovviamente di pubblicare e fornire i dati hackerati ovviamente a tutti i diretti interessati. Questo perché ovviamente alla luce di questo attacco hacker il tema dei dati personali è ancora più importante rispetto al normale, rispetto al solito. E questo perché proprio il convegno di oggi, ne parleremo nel convegno di oggi, la tematica è delicata. Ovviamente dovremo vedere quelli che sono gli esiti anche dell'istruttoria che sta facendo il garante della privacy, ma comunque sia sarà un tema che nei prossimi giorni coinvolgerà non solo le istituzioni ma anche, secondo me, le aule giudiziarie. Ci saranno molti riclami da questo punto di vista e ovviamente anche procedimenti giudiziari, io credo. Il dottor Luigi Di Fabio, presidente Commissione Albo Dontoriatri, ha fatto un'interessante relazione. Purtroppo con i social tutto è diventato molto difficile. Ora è chiaro che in questo mondo dove i social in qualche modo la fanno da padrone è sempre più complesso avere un rispetto dei dati sanitari e dei dati sensibili di un paziente. Noi come ordine professionale chiaramente siamo molto attenti che avvengano la trasmissione dei dati in maniera assolutamente sicura e in maniera rispettosa per quello che riguarda il paziente.